Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Oggi voglio parlarti della potenziale inutilità della sottolineatura. Quindi l'idea è questa, sottolineare è inutile. Ora, nonostante tantissimi video, anche miei, sono fatti proprio in merito a come devi sottolineare, cosa devi sottolineare, quali sono gli errori, eccetera, comunque evidenziare e sottolineare è qualcosa che molto spesso si trova nel metodo di studio più o meno strutturato, più o meno scientificamente sostenuto, di tantissimi studenti. Oggi voglio proporti un'idea che non deve rappresentare una legge assoluta, solo un altro modo di intenderla sottolineatura, in questo caso come qualcosa che non funziona. Per fare questo non mi voglio basare su idee mie, quindi non ti voglio proporre una mia opinione, ma mi baso su un testo che ti ho consigliato anche qualche giorno fa, un testo di Paolo Legrenzi, guardo la psicologia generale, se ti ricordi parlavamo del metodo PQ4R che trovi qui in basso. Ma oggi non voglio focalizzarmi su questo, come ti dicevo, voglio vedere cosa ne pensa un autore della rilevanza di Paolo Legrenzi in merito alla sottolineatura e poi ti dico anche qual è un mio commento. A parte. E leggiamo insieme questa parte, magari la posso sottolineare così, tanto per fare, per creare un po' una contraddizione rispetto a quello che andiamo a leggere. Molti studenti, infatti, non si accingono neppure ad aprire il libro se non sono armati di matite o evidenziatori. Il loro metodo di studio consiste nel leggere e sottolineare ciò che sembra, a prima vista, rilevante. In seguito possono seguire due tecniche, rileggere e studiare solo quanto sottolineato oppure rileggere e risottolineare nuovi concetti. In entrambi i casi si tratta di metodi di studio non adeguati. E poi qui l'autore ci presenta, diciamo, le conclusioni in merito al metodo PQ4R che ti ho dimostrato e ti ho, diciamo, raccontato e descritto in un altro video. Ora, perché è importante e voglio focalizzare la tua attenzione su queste parole dell'autore? Perché ci fa capire come non sia di per sé sbagliato sottolineare ma è il modo in cui questa strategia viene utilizzata. E le idee sono due. È sbagliato sottolineare come unico metodo di studio perché sottolineare non vuol dire niente per la nostra mente non trasforma i dati che stiamo leggendo in significati che quindi abbiano una rilevanza per ciò che stiamo studiando e quindi quello che cambia, in merito quindi nella differenza potremmo dire nel rapporto tra lo studio efficace e il sottolineare è che questo deve essere uno step di un metodo ben strutturato. E quindi mi voglio rifare ai due esempi che porta l'autore. Quindi lui dice, cominciamo a sottolineare quello che a prima vista sembra rilevante quindi qua c'è già un primo errore, cioè a prima vista dobbiamo esplorare prima il materiale, sapere di cosa stiamo parlando e poi magari utilizzare quello che stiamo sottolineando come punto di riferimento per poi continuare a studiare non come apprendimento di per sé perché non è avvenuto nessuna forma di apprendimento e quindi in seguito le due tecniche sono o rileggere e studiare solo quando sottolineato e questo ha un errore molto importante associato cioè pretendere che alla prima lettura o alle prime letture ma spesso è solo la prima che viene associata al sottolineare abbiamo già capito tutto quello che c'era da capire sul testo e quindi tralasciamo inequivocabilmente anche perché per definizione la sottolineare vuol dire eliminare alcune parti che non ci interessano e favorire altri che invece supponiamo siano più importanti senza lasciare il beneficio del dubbio a noi stessi di poter tornare nel testo e quindi a quel punto riuscire a dire possibilmente non ho capito prima questo aspetto ora devo aggiungerlo per rendere il discorso quindi per rendere la comprensione e la memorizzazione più ricca e soprattutto la preparazione dell'esame più completa e quindi questo è l'errore di questo primo scenario di queste due tecniche per come le chiama Legrenzi e l'altra tecnica è rileggere e risottolineare nuovi concetti se vedi da questo punto di vista c'è un po' la soluzione al problema che abbiamo incontrato prima ma quello che cambia è che non ha molto senso continuare a risottolineare perché sostanzialmente stiamo facendo la stessa cosa di prima solo che invece di sottolineare che ne so su 10 righi 5 6 adesso noi sottolineiamo 8 o 9 per non dire 10 quindi per chi tende a sottolineare tutta la pagina e quindi praticamente rendere la sottolineatura del tutto inutile quindi questa dimensione del sottolineare non è sbagliata di per sé ma come ci fa giustamente capire l'autore quello che è sbagliato è il modo in cui la sottolineatura viene inserita perché dobbiamo capire che nel processo di studio partiamo dalla prima fase in cui dobbiamo conoscere come se stessimo conoscendo una persona abbiamo diciamo delle prime impressioni su quali sono le loro caratteristiche qual è la sua caratteristica principale magari capiamo anche da un punto di vista estetico ma dobbiamo poi andare più in profondità per riuscire a comprendere realmente quella persona e allo stesso modo avviene in un testo o slide quello che stai studiando cambia poco l'importante è capire che partiamo dalla prima idea vedendo qual è il materiale come si compone quelle sono le parti più importanti e superato questo step dobbiamo aggiungere altre informazioni quindi sottolineare è inutile se utilizzi solo questo come metodo e quindi è come se tu volessi conoscere quella persona per rimanere nell'esempio di prima e chiedere solo il nome e pretendere di aver conosciuto quella persona in toto ovviamente non funziona così e quindi sottolineare ci aiuta a capire quali sono le strutture orientativamente principali ma dopodiché dobbiamo fare un processo che è di conoscere in questo caso il testo come potrebbe essere per la persona attraverso il quale cominciamo a capire aspetti che non sono così evidenti dobbiamo un po' riflettere noi dobbiamo creare dei supporti che possono essere delle mappe concettuali delle mappe mentali questo non ci interessa in questo momento però per farti capire che ci sono altri step da seguire e di conseguenza anche altre soluzioni quindi attraverso il video di oggi ho voluto mettere un po' i puntili sulle i per farti capire che talvolta quando troviamo autori illustri come nel caso di Legrenzi che ci spiega che ci sono delle strategie che non devono essere eseguite per studiare in modo efficace questo non vuol dire che ciò che facciamo è del tutto sbagliato dobbiamo riconsiderare il modo in cui utilizziamo gli strumenti a nostra disposizione e magari chiederci se ci sono altri che magari invece di sostituire possono arricchire il nostro arsenale quindi spero di averti delucidato le idee in merito a questo aspetto che è molto importante se voi rimanete aggiornato o aggiornata su tutte le altre tecniche o voi adesso che abbiamo un po' aperto questo discorso la parentesi del sottolineare di evidenziare approfondire questi temi già nel mio canale trovi circa una decina di video che è dedicato solo al sottolineare poi altri 290 circa video sono invece dedicati a tutti quegli aspetti che rappresentano il mondo universitario a 360 gradi quindi possiamo dire tranquillamente che puoi trovare tutte quelle informazioni che ti servono per diventare uno studente di successo e capire quando usi un metodo perché lo usi e soprattutto come utilizzarlo quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato ti invito ad iscriverti al canale se appunto vuoi rimanere aggiornato o aggiornato o in generale se ti interessa se vuoi sapere di più su questo testo te l'ho linkato l'altro giorno ti lascio un link anche adesso perché è veramente molto importante perché avere molto di come funziona la mente ovviamente se ti interessa se non ti interessa puoi tranquillamente basarti solo su quello che è il contenuto del video di oggi che è finito e quindi ti ringrazio nuovamente per l'attenzione e ti aspetto nel video che uscirà domani grazie a tutti